. 2018.2.7.T1 Copyright News 1 OEA 0. . 2018.2.7.T1 Copyright News 1 OEA 0. . E1 2 45 A verticale AY con accento acuta E barra rovesciata con dieresi TN con tilde IENA con dieresi. . 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 Tislandese T barra verticale. O barrata H e tislandese minore di T Y 4 F X A con di eresi. O barrata T B D X O E A con di eresi A O E A con di eresi. T L E tislandese chiocciola dollaro T U con accento circonflesso A con di eresi T A O barrata di virgola negazione A con di eresi, D O con accento circonflesso X A con di eresi A O E con di eresi. Barra verticale dollaro A negazione A chiocciola 6 X minore di L 1 A con di eresi. T A con di eresi A con di eresi T A le 1 Yen A con di eresi A con di eresi X T A con di eresi T T D A con di eresi. 44. L E tislandese chiocciola dollaro A con anello T barra verticale F T X X E T A con di eresi T A con di eresi. I T D L A con di eresi A O barrata e tislandese U con di eresi di micro T T E tislandese chiocciola L E D A con di eresi F A con di eresi A O E a con di eresi. . . U con di eresi e tislandese. . 2018.2.7.t1 Copyright News 1 O E A con di eresi 0. Di eresi grado K A di L L X U con di eresi. U con con accento grave X F di X dollaro A con di eresi. . U con di eresi T A virgola I F T X L A U con di eresi A con di eresi. Ienti barra verticale X A I lunga O E a con di eresi A ed islandese a con di eresi. T apostrofo. . 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 Ti do la rocca di acondieresi acondieresi.